E' potabile l'acqua lì? Si Si? Allora vediamo, oggi è stata una buona giornata facciamo il trasferimento dei funghi questo è uno questo è l'altro questo è il terzo una buona raccolta da bovire dati i periodi questo e questo guardate la bellezza di questa scena sono quattro scena questo è il terzo guardate cos'è questo settembrili questo questo mettiamo dentro questa è la cassetta del suo lontano un po' meno di 2 kg e un po' meno di più un po' meno di più un po' meno di più